Buongiorno a tutti ragazzi, quello che avete visto prima scritto da Francesca è vero. Io e Francesca ad oggi non stiamo più insieme, ma volevo spiegare meglio il tutto, perché sennò non si capisce. Allora, come stavo dicendo prima, non siamo più insieme, ci siamo presi diciamo un po' di tempo per stare da soli, sia io che lei, per vedere se questa storia può avere una continuazione o meno. È una scelta che abbiamo preso entrambi, già da qualche settimana me l'ha comunicato lei, l'ho comunicato io, solamente oggi, e solo il tempo potrà dire se un giorno torniamo insieme o meno. Quindi cerchiamo ragazzi per favore di non confondere la vita reale, che è quello in cui stiamo vivendo adesso con il reality, perché non c'entra assolutamente niente, e solo il tempo darà le risposte che servono sia a me che a lei. Ciao!